Il mondo è più privilegiato Il mondo è più privilegiato Però non, quando ci sono in periodo da Sjutina Non ci sono mai spartare Se non spartare in Somma o in Svizzera Spartare la dynere energie Mi sono molto bene Se viene orto dalla Spina Non si può lavorare E quindi bisogna più grande energie Nessere vite sono più grande Abbiamo fatto le fontane In un cento sguardo Ci sono attacchi di un microplastico Centro di plastica che sono in avanti ai nostri flessori Da un mar È in più facilità Poi, in cui si tratta da un po' di plastica e di un po' di ruolo Spendiamo di tutto Noi stiamo proteggendo i sistemi ecologici per diminuire i suoi scemini su tutti i soldi. Se non prendiamo ancora il plan d'azione dell'Agenda 2030 promuovendo una Svizzera che si investisce per l'aria netta ma si investisce anche per un'exploitazione per una base persistente delle nostre risorse d'aria. E' un percorso che non dovrebbe essere una relazione più stretta con l'aria ma anche con la natura in generale. Questa viene a fare individualmente, fatta per esempio in Bogni, in un flume, in una walle o in un lì e vorrei sentire che c'è il vostro ambiente. Questa relazione stretta ed empatica è la clave per la nostra fontana di tutta la vita. E sono Ernst Bromais e mi ringrazio per l'aria netta in Svizzera.